La famiglia reale ha visto precipitare la propria popolarità sulla scia della serie di documentari dei Sussex e del libro di Harry. Secondo un sondaggio critico, la reputazione della famiglia reale, è crollata insieme a quella del principe Harry e di Meghan Markle, secondo un sondaggio devastante. Mentre la preferenza di Harry è scesa al minimo storico del 24%, l'azienda ha seguito la stessa tendenza con un calo di popolarità dal 55% di settembre al 43%, mostrano i sondaggi YouGov. Tale calo è stato significativo tra i giovani di età compresa tra 18 e 24 anni, che hanno quasi il triplo delle probabilità rispetto a quelli di età pari o superiore a 65 anni di pensare negativamente ai reali. Dal 58% al 21%, l'attivista anti-monarchia e portavoce della Repubblica Graham Smith, ritiene che il libro di Harry e la serie di docu Netflix dei Sussex, abbiano avuto un impatto significativo sulla reputazione dell'azienda, poiché i giovani si stanno rivoltando contro la famiglia reale come parte di ciò che ha descritto come cambiamenti culturali. Ha detto a Express. L'altra cosa è che ci sono stati cambiamenti culturali piuttosto sostanziali negli ultimi anni, che sono rappresentati in movimenti come Black Lives Matter, Me Too e l'abbattimento delle statue. Le persone sono più consapevoli della provenienza della monarchia e meno tolleranti nei confronti delle istituzioni che non riflettono un cambiamento di atteggiamento. Con cose come Me Too e Black Lives Matter, Andrew, Ferry e Megan, hanno solo rafforzato l'idea che la monarchia sia totalmente distaccata da questi valori. Ha aggiunto. E penso che questo sia il motivo per cui il divario generazionale è così grande. riflette un cambiamento negli atteggiamenti, che sono più comuni tra i giovani. Simon Hill, un attivista antimonarchia arrestato per aver gridato a Re Carlo durante una proclamazione a Oxford, concorda sul fatto che il libro di Ferry abbia avuto un certo impatto, ma pensa che altri fattori stiano giocando.